Con Mauro Lucchetti, presidente del gruppo Accadrà, siamo pronti per il terzo e ultimo weekend di questa 58esima edizione. Un primo bilancio, ospiti illustri anche del governo come il ministro Pinotti, il magistrato Cantone o dell'autority. Sono tutti ospiti illustri. Abbiamo cominciato con Ferrara e sua moglie, Adriana Asti, che è stata una cosa molto bella, molto divertente, molto piacevole. E' continuata nello stesso modo con Carla Fendi e sua nipote. E poi abbiamo avuto questa cosa straordinaria con Sandro Veronesi, che poi ha fatto anche lo spettacolo, che tra l'altro abbiamo coprodotto. E poi abbiamo continuato. C'è stato Cantone, c'è stato il ministro Pinotti, poi ci sono stati Ammanniti e Trevi. E in tutto sono 15. E devo dire che è stato uno straordinario Emanuele Emanuele. Emanuele Emanuele, che si è presidente della fondazione. Emanuele che è stato, diciamo, subito dopo Cantone, quindi è come l'uomo di Stato e l'uomo di Finanza. E quindi è stato anche molto strano che si è commosso. È stata una cosa abbastanza piacevole, come, sai, Paolo Mieli è capace di tirar fuori delle cose straordinarie. E poi adesso vedremo, perché continuiamo con Marianna Madia e poi avremo Costanza Esclapon, che è stata lei che ha fatto il famoso spot su Spoleto. E' stata lei che l'ha voluto, che ha voluto la nostra collaborazione con la RAI, quindi bisogna ringraziarla. E poi c'è Pierangelo Buttafuoco. E poi torna Paduano. Paduano che ha fatto questa cosa del cablaggio della città. E quindi, insomma, sta diventando un amico della città e speriamo che continui ad esserlo, perché è un personaggio di rilievo, un grande manager. E quindi noi siamo felici di averlo qua. Che giudizio dai a questa 58esima edizione? La domanda di prima era proprio perché i VIP sono arrivati più con i mieli che con gli spettacoli. Spettacoli che vanno bene. Qual è il tuo giudizio complessivo sulla manifestazione? Il giudizio sulla manifestazione non può che essere positivo. Positivo. Io sono tornato, diciamo, da quattro anni. L'ho vista crescere. La vedo diventare sempre più e permearsi sempre di più con la città e con questa manifestazione. C'era stato uno scollamento molto forte e io ne ero la testimonianza. Oggi la testimonianza è il luogo dove siamo. Perché? Perché la rinascita è anche data dal luogo. Per me è anche commovente perché tornare qui, siamo nel giardino dove Giancarlo Menotti faceva i suoi ricevimenti. Io venivo da bambino, sono venuto sempre perché poi ho sempre lavorato con il festival. E averlo qui, avere della gente qui, vederlo, sentire le voci, poter stare qui la sera dei fuochi che saremo qua, sarebbe una cosa straordinaria. Questo significa un po' la rinascita e questo anche, insomma, chiaramente in particolare grazie a Giorgio Ferrara, l'amministrazione che è molto sensibile e Cardarelli che, insomma, sta facendo un lavoro straordinario sul festival. Nonostante lui non sia la sua capo optì, però vedo che comunque comincia a capire quanto sia da volana la città e per tutte le altre cose. Ma la cosa che ti volevo dire, che per me è molto molto importante anche da un punto di vista umano, è che questa manifestazione l'ho dedicata a mio papà. Perché mio papà è stato sempre vicino al festival, è stato un uomo, io sono il figlio e non lo devo dire, però è stato un uomo straordinario, un uomo che ha fatto, ha passato tutta la sua vita per Spoleto, l'ha aiutato, ha fatto la costituzione della fondazione, fu anche marito suo, è stato presidente della fondazione, presidente delle due banche e poi, insomma, è venuto a mancare il 25 agosto dell'anno scorso. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere per lui, perché so che sarebbe felice, era felice quando avevo cominciato a fare queste cose e questa mia affezione, se è possibile, è ancora più grande. Ritorno al passato, verso il futuro. E il futuro del gruppo accadrà con il festival? Qual è? Questa formula sembra andare bene, vorremmo migliorarla, vorremmo forse mettere cose diverse. Adesso penseremo con Mieri, con Paolo Giaccio, con la mia Carolina, con Maddalena Maggi e con tutto lo staff, penseremo a migliorarla. Non so come, perché devo dire che siamo, questa Spoleto ha una sua aria fantastica, un suo modo di essere, che fa parlare le persone. Nelle nostre città ormai c'è una velocità nel fare le cose che qui si perde, qui c'è più tranquillità. E quindi questa è una magia, forse la magia del festival è questa. La città è finalista, quale candidata a capitale della cultura italiana 2016 o 2017? Secondo te quali sono le possibilità che ce la faccia e magari di cosa ha bisogno questo progetto per convincere il MIBAC a dare un meritato premio alla città? Mi stupisce che tu me lo chiedi, però ti rispondo... Tu sei l'esperto di comunicazione. Eh, ti rispondo. Dieci città, due umbre. Noi ce la possiamo fare. Dove passano queste cose? Queste cose passano attraverso le relazioni. E l'amministrazione comunale sicuramente ha delle relazioni. Dobbiamo tutti noi, spoletini, che viviamo fuori, che viviamo a Roma, che abbiamo delle relazioni appunto, cercare di mettere a disposizione per far capire quanto è bella questa città e aiutarlo, aiutare tutta l'amministrazione e tutta la città a raggiungere questo grande traguardo che sarebbe, al di là del denaro, perché per carità è un milione, fa comodo, insomma, in un momento come questo, però è, diciamo, l'attività mediatica che ne conseguirebbe. Quindi questo significherebbe una cosa straordinaria per la nostra città. Quindi dobbiamo lavorare tutti, tutti quelli che possono avere delle relazioni per raccontare quante belle spole, e io penso che questo è il modo migliore di raccontarla.